per adesso sta andando non mi da errore mi sembrerebbe adesso ci laviamo adesso ci laviamo dove stai riflessando? vai 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 ola si si tutto pulito tutto pulito e profumato pulito e profumato pile cio lo piang 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Buon appetito! Benvenuti, sono Elisa True Crime, come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata Lui le risponde che non riusciva proprio ad accettare il fatto che non so Mi chiede se per favore poteva richiamarla perché non voleva perdersi neanche un minuto in questo telefilm e così fa e voi direte sì ok ma almeno avrà avvertito Charney dato che comunque le due erano amiche Si occupava di sorvegliare il dormito durante la notte, questo signora solitamente la sera delle percorte dell'ingresso al dormitore con le sue chiade Anzi, inizia, associati e chiamati per su YouTube, oggi, Gabi e a colpa in tutto Già dal principio Grazie! Grazie a tutti. 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 Ok... Ok... ... 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 un po' . 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info